Partite in questo momento la prima delle scelte finali della tramita acustica che vorrei raggiungere, 12, il numero 12 dei filiaterni che sono stati sposti con il contattivo e il numero 12 dove si era la campana ad annunciare a tutte le concorrenti che dal passaggio successivo o meno 10, quindi sul numero pari verranno assegnati i primi punti validi, la prima delle scelte finali che arriva da una regolarità, la prima delle scelte finali sarà in grado di capitare questi i primi punti, attenzione atleta nella 12, punti validi per voi sul traguardo Asia! Adesso Asia! Adesso Asia! Adesso Asia! Asia! Adesso Asia! Adesso ASIA! Adesso? Prossimo preguardo, otto alla confusione, ancora punti, bandi, attenzioni, 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 questo prossimo preguardo punti per voi. Prossimo preguardo, otto alla confusione, continuo, 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 continuo. Prossimo preguardo, otto alla confusione, continuo, 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 continuo. Prossimo preguardo, otto alla confusione, continuo, 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 continuo. Buongiorno a tutti. Siamo a una volata di 4 giuri alla conclusione, punti in pagno, attenzione a trete. Ha guadagnato due punti la concorrenza del 100% con 2 milioni di onore, ha guadagnato due punti la concorrenza del 100% con 2 milioni di onore, la concorrenza del 100% con 2 milioni di onore. Siamo a minus 3, la scuola del 100% con 2 milioni di onore, la scuola del 100% con 2 milioni di onore, 2 al termine tra breve, avremo punti validi. Ha guadagnato due punti la concorrenza del 100% con 2 milioni di onore, semm ki è venuta sicuramente 10 milioni di onore, e allora questo ha guadagnato due punti la concorrenza которой non è stata la concorrenza del 100% con 3 diutee. 2 al 100% con 2 milioni di onore e per 2018 diァittura. Dai, dando esiste esplastico alle punti la concorrenza del 100% con 3 milioni di onore online e qui con due punti ancora a qualsiasi rieduti in un totale no aria finissimi punti in totale che erano tutti i giorni dai Ceccia, dai! forza, forza, forza che lei prima dai, dai Passare all'arrivo fino a traguardo conclusivo sta avviando anche questa prima semifinale di qualifica che arriva in pubblico, come abbiamo detto, di selezionare, di selezionare le cinque finaliste. E' un'altra cosa che si fa in questa gara, tra breve, e si fa in questa seconda. E' palpita anche la semifinale numero due, potete arrivare tutti i venti, ma probabilmente di tenere che si può fare in questa gara, rispetto alla prova che abbiamo scelta l'intervento, ma non tutti ci viene, la nostra presenza, la nostra superaforma, la sicuramente di dare il corrente tra breve, selezionare, omea 11, numero dispari, in istituto della città, e avremo poi i punti successivamente a meno di 15 mili unitari. Sala del Mino 11 Prossimo traguardo di Sia Fermi Ne avremo punti validi Su questo traguardo Prossimo traguardo Prossimo traguardo Prossimo traguardo e il numero 1 è un po' di rinforzamento, 50 settimane, 3,2 al suo aspiro, quindi sale a quattro e tre punti conquistati fino a questo momento della gara. La gara, la gara, la gara, la gara, la gara! La gara, 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 la gara Stiamo avvicinando ai meno 4, 4 giri dalla conclusione, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Stiamo avvicinando ai punti, avremo ultimare anche il voleto passaggio. Pallone Carlotta, e nel numero uno la concorrente numero 35, Riondino Alessia, questi primi punti messi a segno su tre guardie, tra breve campana di numero 9, il voleto passaggio. Punti del minotto. Vi aspetta! Punti del minotto. Punti del minotto 188-21genese. E' stata ammonita in tanti. Passaggio! Punti della! E' stata ammonita al tuo numero 188-21genese. Siamo a cantare in sette giri dalla conclusione, prossimo traquardo che giri alla conclusione, punti validi ancora in baglio per Nervet Inga, 0-3 traquardo dei meno 6, punti validi per voi. Siamo avvicinando alla campana dei meno 5 da la conclusione, che si sta preparando per la volata, il meno 4, il passaggio per Nervet Inga, 0-3. Siamo avvicinando alla campana dei meno 3, che è sulla passaggio, e non ha più di più, ma non ha più di più, ma non ha più di più. Siamo avvicinando alla campana dei meno 3, che è la passaggio, e si sta preparando alla campana dei meno 6, punti validi per voi. Il passaggio per Nervet Inga, 0-3, punti validi per voi. Siamo avvicinando alla campana dei meno 6, punti validi per voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.